la mia vita spaziale eccoci qua per una nuova puntata dedicata al mondo del digital delle idee del business di tutto quello che può servire per il nostro lavoro e anche per il nostro tempo libero oggi parliamo di mail e lo vediamo subito dopo la sigla la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro idee strategie e consigli a cura di andrea brugnoli è da un po di tempo che sto parlando di firma digitale insisto su questo tema perché vedo che riscuote molto interesse perché fa molto brand avere una firma digitale ben fatta io vi ho già dedicato vari puntate del podcast spiegando soprattutto in una fondamentale che ti invito a seguire andare a cercare è che parlo di un'app che si chiama email signature creator cioè un programma a pagamento che ti permette di fare delle ottime firme digitali con molti template e ha però un difetto questo programma che qualcuno mi ha segnalato cioè che le immagini che questo programmino sviluppa per esempio per i tastini non so dei social media devono essere caricati attraverso un server ftp su una piattaforma online perché naturalmente chi apre la mail come dire vede semplicemente il codice e quindi poi va a pescarsi la mail cioè le immagini entro la mail e quindi te le fa vedere il client che tu usi esiste però un tool tutto gratuito di hub spot che ti permette di fare esattamente la stessa cosa senza complicazioni ulteriori pertanto oggi voglio parlarti di questo tool ti consiglio a usarlo nelle note di episodio troverai il link dove cliccare per andare a vedere questo questo sito diciamo è è semplicemente una app online hub spot punto com slash email signature creator che praticamente che cosa fa ti apre un bellissimo form dove tu puoi inserire con un drag and drop caricando l'immagine la tua foto per esempio il tuo logo e poi personalizzare i tastini dei pulsantini dei social mettere naturalmente tutto il tuo indirizzo la mail telefono il tuo sito tutto quello che vuoi e quando hai scritto il tuo nome puoi cambiare attraverso molti template per la verità non sono moltissimi sono sei però direi che hai tutte le possibilità possibili immaginari puoi cambiare naturalmente tutti i tuoi dati e anche i colori per brandizzare ulteriormente quella che è la tua mail a questo punto quando hai caricato l'immagine scelto i tuoi colori hai confezionato tutto c'è un semplice tastone create signature e con questo tasto ti viene scaricato il codice che tu puoi inserire all'interno della tua mail oppure se usi outlook mail di apple o air mail come uso io naturalmente lo copi e lo incolli all'interno della mail nel template quindi adesso non ci sono più scuse per mandare una bella mail brandizzata in modo semplice e anche gratuito un tatina lampo questa settimana dedicata a un tema su cui abbiamo già trattato ma davvero questa è una cosa che faccio fare sempre ai miei clienti perché magari fanno delle cose fantasmagoriche grafiche di qua e di là e poi alla fine ti arriva una mail veramente brutta brutta scritta con quei link che vedi sottolineati di blu e caratteri diversi oppure abbastanza illeggibili tutto questo da un'idea di sciatteria mentre invece quando ti arriva una bella mail brandizzata soprattutto io invito tutti quanti mettete la vostra faccia mettete il vostro volto perché la gente vuole vedere il volto e la faccia della mail che ti arriva di di chi te l'ha scritta quindi del mittente rende molto più intima la comunicazione molto più personale e tutto questo fa molto molto piacere quindi ti invito davvero a farlo anzi a confezionare più di una mail perché puoi avere una mail per business con tutti i tuoi dati commerciali diciamo e una mail magari per gli amici dove invece della faccia ci metti che ne so un avatar per esempio puoi farti un bellissimo avatar con snapchat e quindi bitmoji e metti il tuo bitmoji dentro la tua mail diventa molto simpatico molto carino ecco questo è il podcast la mia vita spaziale io sono andrea brugnoli e ti aspetto per una nuova puntata tra qualche giorno questo podcast ti ricordo che esce ogni mercoledì e ogni sabato mattina alle ore 7 ma lo puoi ascoltare sempre quando vuoi su youtube su sprick su itunes su anco su spotify su eccetera 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 perché la nostra vita sia sempre di più sempre di più spaziale la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro a cura di andrea brugnoli